A sta la vista ragazzi, io sono Cyborgamer dal futuro e oggi ci troviamo in un nuovo episodio su Dragon Ball Xenoverse 2, sempre sulla serie. Rieccoci qua ragazzi con il nostro carissimo pattugliatore temporale assieme alla nostra mitica mascotte di Janemba che fa sempre casini e non sta mai ferma. E oggi siamo precisamente qui per andare finalmente a provare assieme appunto quel gigante devastatore di Toppo Akai Shin, o per meglio dire in italiano Toppo Dio della Distruzione, che come ben sapete è stato introdotto appunto con il DLC 12 Legendary Pack 1 assieme anche a Pike One che andremo a provare successivamente. Devo dire che il personaggio di Toppo, almeno forma base, nell'anime mi è sempre piaciuto abbastanza. Ma ragazzi, quando nel 125esimo episodio di Dragon Ball Super, appunto in un momento critico, si è trasformato all'improvviso nel fottuto dio della distruzione Toppo, ragazzi li ho esultato, perché ho visto un grande cambiamento nel personaggio, sia esteticamente ovviamente, e sia anche all'interno del personaggio, nell'animo. E quindi da essere un personaggio un po' grassoncello, prevalentemente buono, che combatteva per la giustizia e che parlava sempre, infatti mi ricordo che diceva sempre la parola justice, 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 prima degli attacchi, me lo ricordo benissimo, e mi piaceva sta cosa, ha abbandonato i suoi ideali di giustizia, ed è passato ragazzi alla distruzione, trasformandosi appunto in un fottuto dio della distruzione, davvero spaventoso ragazzi, gigantesco, un devastatore incredibile, infatti devastava tutti quanti, e con un animo molto dark, infatti parlava molto meno, ed era davvero spaventoso anche guardarlo ragazzi, quindi mamma mia, che cambio di, diciamo, rotta come personaggio, un'evoluzione del personaggio davvero incredibile, e per questo ragazzi mi è piaciuto tantissimo, mi ricordo anche che ce l'aveva tantissimo con Freezer, che lo aveva fatto trasformare così perché era in un momento critico, e appunto lo devastava un sacco, un sacco di volte senza sforzo, quindi è anche per questo che amo topo dio della distruzione, e oggi ragazzi sono davvero contentissimo di poterlo provare qui su Xenoverse 2. Ma adesso, prima di cominciare, vi voglio un attimino ricordare di andarvi a recuperare, se non l'avete visto, lo scorso episodio in cui ragazzi, semplicemente abbiamo partecipato all'evento online chiamato Conton City TV, abbiamo guardato lo spettacolo sul televisore gigante chiamato Fashion Contest, e abbiamo anche reagito ad un teaser a sorpresa di Jiren Full Power, che dovrebbe arrivare appunto nel prossimo DLC in autunno. Quindi ragazzi, il tutto è stato davvero fenomenale e ci siamo divertiti tantissimo. Quindi ragazzi, se per caso non avete visto lo scorso episodio, mi raccomando ad andarlo a guardare, o siete terminati! Detto questo, adesso ragazzi possiamo cominciare, quindi andiamo subitissimo a Battaglie Offline, facciamo Parla, e ragazzi ci facciamo alcune battaglie libere, 1 vs 1, per provare appunto Toppo Akaishin. Quindi, battaglia libera, 1 vs 1, e si va! Oh, ed eccoci qua ragazzi, finalmente nel roster, e quindi non ci resta che andare alla fine del roster, dove si trova appunto il nostro caro Toppo Akaishin. Possiamo chiamarlo sia Toppo Dio della Distruzione, o sia Toppo Akaishin, ma secondo me ragazzi, fa più figo chiamarlo Toppo Akaishin, con il nome originale. Qui abbiamo Paikwan, e qui sotto ragazzi, abbiamo questo enorme omone, davvero gigantesco. Lo chiameremo ragazzi, il Gigante Devastatore. Ma guardatelo ragazzi, com'è possente, tutto lucido tra l'altro, quindi emana potenza da tutti i pori. Come abiti ha solamente guanti bianchi enormi, scarpe bianche enormi, come quelle di Jiren e appunto di tutti gli altri della Truppa Pride, e anche ragazzi, i pantaloni che dovrebbero essere neri, ma qui sembrano viola, perché diciamo c'è questo riflesso. Poi ragazzi, abbiamo la parte superiore di questa uniforme, che lui stesso si strappa, per poi trasformarsi, dopo aver preso la decisione di farlo, quindi mi ricordo che se la strappa lui la parte superiore dell'uniforme, la butta per terra e appunto poi si trasforma in pochissimo tempo. Ragazzi, mi piace tantissimo il simbolo da Dio della Distruzione qui sul petto, fantastico di quel colore rosso, dovrebbe essere rosso. Ovviamente questa forma Akai Shin di Toppo a me piace tantissimo ragazzi, a livelli incredibili. L'unica cosa che non mi piace sono le orecchie. Sì ragazzi, perché sono a punta, tipo mi ricordano un po' quelle di Junior, e diciamo che stonano un po' sulla testa del personaggio. Lo so che sono uguali anche su Toppo forma base, ma stonano tantissimo. I baffi ci possono anche stare perché coprono la bocca insomma, quindi ci possono stare. La testa va benissimo, insomma ragazzi, il personaggio è fatto divinamente ed è anche molto molto alto. Ecco perché l'ho chiamato Gigante Devastatore, perché è gigante e devasta tutti i nemici insomma. Fino a quando poi non arriva Vegeta. Quindi qui abbiamo Toppo Dio della Distruzione, Uniforme Truppa Pride 1, poi con R1 andiamo a Uniforme Truppa Pride 2. E non sembra che ci siano ragazzi cambiamenti nella skin. Io immagino ci siano solamente dei cambi, diciamo, nel set abilità. Quindi non ci resta adesso che fare abilità. Ci guardiamo ragazzi tutti gli attacchi speciali e appunto gli attacchi supremi. Abbiamo Scisma Distruttivo, Bagliore Distruttivo, Spezza Braccio, la Carica Massima quindi perfetto. Come Supreme abbiamo Onda Energetica Max Potenza, che sinceramente raga non mi interessa perché la conosciamo bene. Ce l'hanno molti molti personaggi come Suprema. Fissione Distruttiva, questa è una mossa Suprema sua, lo so. Colpo di rottura come appunto abilità di schivata. Superanima ho abbandonato tutto per questo. Quindi appunto è quello che vi stavo dicendo prima, ovvero che lui ha abbandonato tutti i suoi ideali di giustizia per passare alla distruzione, distruggere i suoi avversari e vincere appunto il cavolo del torneo del potere. Quindi ragazzi ci sta tantissimo il nome di questa superanima. Mentre se facciamo R1 abbiamo ragazzi due cambi. Abbiamo la Carica Suprema al posto della Carica Massima e abbiamo appunto l'impeto potenziato al posto di Fissione Distruttiva. Quindi ci tocca provare tutte e due le skin perché non hanno appunto le stesse abilità. Quindi raga se vogliamo fare un test per bene del personaggio andiamo anche a testare l'impeto potenziato e vediamo com'è la Carica Suprema su di lui. Tra l'altro mi piace da morire questa animazione che fa qui dentro al roster. Cioè ragazzi si guarda le mani e poi si stringe i pugni in quella maniera assurda. Mi piace tantissimo. Poi mi dà di un personaggio molto dark con quello sguardo, con quegli occhi appunto che emanano raga cattive intenzioni insomma. Guardatevi bene gli occhi sono praticamente fucsia insomma sul viola e non emanano nulla di buono quindi un personaggio cazzutissimo. È una trasformazione ovviamente cazzutissima e ragazzi è stata la prima che abbiamo visto. Non abbiamo visto altri personaggi trasformarsi in dio della distruzione nel torneo del potere o comunque in tutto Dragon Ball Super. Quindi è stata praticamente una novità molto molto pesante, molto molto bella. Quindi ragazzi adesso andiamo a far scontrare il nostro topo a Kaishin contro alcuni personaggi per provare le varie mosse. Quindi lo selezioniamo. Ok molto bella la voce raga e andiamo a selezionare il nemico. Ovviamente come primo nemico andiamo a scegliere lui. Colui che lo ha fatto trasformare in Kaishin. Colui che lo ha messo alle strette e lo ha costretto a trasformarsi in quella maniera. Ovvero il caro Golden Freezer. E certo ragazzi quindi facciamo conferma. Perfetto adesso scegliamo dove combattere. E dove dovremmo combattere secondo voi ragazzi? Ovviamente arena del torneo del potere. Quindi vai. Ed eccoci qua ragazzi. Topo a Kaishin direttamente dall'undicesimo universo contro Golden Freezer direttamente dal settimo universo. Mamma mia ragazzi che scontro. Guardatelo quant'è imponente, gigante, muscoloso. Andiamo ragazzi. Prima con un po' di combo vorrei rendermi conto appunto di come combatte. Wow. Mamma mia ragazzi ma è gigantesco rispetto a Freezer. Rendetevi conto. Bello bello raga. Come combatte mi piace tanto. Mi dà proprio di uomo muscoloso. Vai, vai, vai. Sì ragazzi guardate che roba. Oddio. Lo ha devastato. Lo ha rincorso in una maniera assurda. E lo ha devastato. E è andato anche molto più veloce con i pugni. Guardate. Guardate ragazzi. Mamma mia. Poi lo rincorre. Shbam. Vediamo un po' ragazzi. Di andare anche con altre combo. Attenzione. Vediamo un po'. Freezer stai un po' fermo che ti devo devastare. Ecco ragazzi. Con triangolo funziona così. Ok. Perfetto. Mi piace ragazzi. Mi piace. Vediamo un po'. Ok. Vai. Vai Toppo. Scatenati. Vai. Oddio. Ho visto qualcosa di seriamente interessante ragazzi. Uh bellissimo. Bellissimo ragazzi. Andiamo a ricaricarci con la carica massima. Ok. Carica massima raga che conosciamo tranquillamente. L'abbiamo usata anche su altri personaggi. Quindi. Iniziamo ragazzi adesso a provare ad esempio la presa. Ah. Quindi lo raga lo prende direttamente e lo butta via. Fantastico. Riproviamoci. Vai. Ecco raga. Senza problemi lo prende. Lo fa girare come una trottola e lo butta via. Fantastico. Facciamo scisma distruttivo raga. Appena possiamo. Vai. Oddio. Sì ragazzi. Questa è la mossa che fa praticamente a Freezer. Me lo ricordo raga. Freezer appunto corpo perfetto. Non a Golden Freezer. Voglio distruggerlo così ragazzi perché se lo merita. Vai. Sì. Sì ragazzi lo distruggiamo così. Vai. Madonna. Li dà un calcione raga. Distrutto. Perfetto. Già mi piace tantissimo raga. Il personaggio già esteticamente è troppo troppo bello. Ma anche le mosse, il modo come combatte mi dà proprio di un personaggio forzuto. Cioè proprio come muove le braccia, come dà i calci. Fantastico ragazzi. Davvero un gigante devastatore. Benissimo ragazzi. Sì scegliamo ancora una volta Topo Hakaishin visto che lui è al centro dell'attenzione oggi e andiamo a scegliere un suo avversario. Ma ovviamente ragazzi scegliamo lui, Ranger 17 che ha combattuto contro Topo Hakaishin o comunque gli ha tenuto testa, ha schivato gli attacchi. Insomma si è comportato davvero bene in battaglia e quindi ragazzi lo chiamiamo anche qui. Vai. Anche stavolta torneo del potere. Ed eccoci qua ragazzi. Topo Hakaishin direttamente dall'undicesimo universo contro Ranger 17 direttamente dal settimo universo. Vediamo un po' chi la spunta tra i due. Ovviamente lo sappiamo già ma lo dico per dire. Quindi raga partiamo con un bel po' di combo. Andiamo subito a devastarlo. Andiamo a mostrare la potenza di un dio della distruzione. Vai Topo, fantastico. Madonna ragazzi, lui contraattacca ma noi andiamo con un'altra combo potentissima. Vediamo un po'. Vai. Oddio, fa la barriera, fantastico. Vediamo un po' ragazzi, andiamo un po' a devastarlo con altre combo. Davvero interessanti. Uh, bello raga, bello. Proprio come al torneo del potere insomma. Ecco, succede un'altra volta. Bene, bene, vai. Vai Topo, valla a distruggere. Madonna ragazzi, bellissimo. Ci sono riuscito, ho fatto un'altra combo incredibile. Facciamo scisma distruttivo raga, lo vorrei fare. Ah, lo spingiamo via con un bel pugno. Vai, scisma distruttivo. Anche a Ranger 17 raga. Un bel calcio, lo spingiamo via. Bagliore distruttivo. Ah, ok ragazzi, perfetto. Spara appunto con le dita della mano. Perfetto, ho capito di che mossa si tratta. La usavo anche in forma base se non sbaglio. Vediamo, vediamo. Ci ricarichiamo prima, ok. Con la carica massima, con l'aura viola ragazzi. Ok, perché è un dio della distruzione. Che colore vuoi che abbia, Laura? Attenzione. No, non voglio colpirlo in altre maniere, raga. Ok, attenzione. Ecco che ritorna. Madonna ragazzi, dai, lo voglio distruggere. Vai. Bagliore distruttivo, vai. Madonna ragazzi, ma che scarica incredibile. È fantastico questa mossa. Me lo ricordo benissimo. La usava anche in forma base. Quindi perfetto. Madonna ragazzi, quanto cavolo mi sta piacendo oggi topo. Non immaginavo fossero così belle le mosse. Mi sta davvero entusiasmando. Comunque, scegliamolo. E ragazzi, scegliamo il suo avversario. Ma ovviamente ragazzi, in uno di questi scontri ci dobbiamo mettere per forza Vegeta Super Saiyan Blue Evoluto. Colui che poi lo sconfigge, lo sappiamo bene. Comunque, facciamo conferma. Torneo del potere. Ed eccoci qua ragazzi. Toppo, Hakaishin direttamente dall'undicesimo universo contro Vegeta Super Saiyan Blue Evoluto direttamente dal settimo universo. Vediamo un po' chi la spunta tra questi due bestioni. Mamma mia ragazzi, quanta potenza tra questi due. Quindi andiamoci a scatenare con Toppo contro Vegeta. Mamma mia ragazzi, dai. Forza Toppo, ce la faremo a battere Vegeta. Vai. Ti devi dare solo da fare. Bene raga. Benissimo. Guardate che roba. Fantastico. E' capitata una combo davvero dirompente. Mamma mia. Ma buttalo via. Vai Toppo. Raga, carica massima. Ci ricarichiamo un po'. Perfetto. Fantastico. Facciamo appunto, appena possiamo, spezza a braccio. Vai. Attenzione ragazzi. Una mossa che conosco e fa tanto tanto male direi. Mi sa che la mossa che usa Nappa spezza a braccio. Come fa ad averla anche lui? Oddio ragazzi, sembra la stessa mossa. O comunque mi ricorda quella lì di Nappa. Poi fatemi sapere se mi sto sbagliando io o se ho ragione a pensarla così. Ma sembra quella lì ragazzi. Quella che usa contro Tenzing nella saga dei Saiyan. Mamma mia ragazzi. Abbiamo capito come funziona. Attenzione. Facciamo bagliore distruttivo. Mamma mia ragazzi. Quanto mi piacciono le mosse di Toppo eh. Tantissimo. Tantissimo. Vorrei fare anche il colpo di rottura. Se Vegeta ce lo permette. Si sta scatenando proprio adesso. Facciamo ragazzi. Oltre il limite. Così lo spaziamo via. Allontaniamoci immediatamente ragazzi. Vediamo un po'. Vorrei fare il colpo di rottura. Appena Vegeta arriva. Anzi andiamo noi da lui. Colpo di rottura. Eccolo qua ragazzi. Lo conosciamo già da altri personaggi. Facciamo fissione distruttiva. Ecco qua ragazzi. Oddio. L'energia della distruzione. Oh mio Dio. Guardate raga. Una piccola sfera. Quella mossa la usa contro Freezer. Me lo ricorderò per sempre raga. Ci allontaniamo un attimo. Ci ricarichiamo. Oddio. Che bella mossa ragazzi. Vai. Falla adesso. Fissione distruttiva. Vai. Lanciala contro Vegeta. Quindi segue il nemico. Guardate ragazzi. Si. Lo distruggiamo così ragazzi. Una maniera magnifica di distruggere Vegeta. Mamma mia ragazzi. Quella mossa me la ricordo che la usa contro la supernova di Freezer. E quindi è una suprema. Secondo me è davvero spettacolare. Bene ragazzi. Adesso che ci siamo resi conto dell'effettiva potenza di Toppo Akai Shin. E abbiamo visto alcune delle sue mosse speciali e supreme. È il momento di passare alla seconda skin che ha qualcosa di diverso. Abbiamo la carica suprema al posto appunto della carica massima. Quindi dovrebbe essere molto più veloce. E poi ragazzi abbiamo l'impeto potenziato al posto della fissione distruttiva. Poi l'onda energetica max potenza quella non cambia. La conosciamo bene. Magari la utilizziamo ma diciamo che è molto deludente come mossa perché ce l'hanno tutti quanti. Quindi ragazzi lo andiamo a scegliere subitissimo. Lo facciamo scontrare contro il caro Gire nel grigio. Il suo compagno di squadra. E ho notato che ha anche lui l'impeto potenziato. Quindi ragazzi potrebbe essere la stessa mossa o potrebbe chiamarsi nello stesso modo ma essere completamente diversa. Comunque sta di fatto che l'impeto potenziato ce l'ha sia Giren che Toppo dio della distruzione. Quindi selezioniamo Giren e andiamo a combattere subitissimo all'arena del torneo del potere. Quindi vai. Ed eccoci qua ragazzi. Toppo a Kai Shin direttamente dall'undicesimo universo contro il suo compagno Giren il grigio. Anche lui direttamente dall'undicesimo universo. Vediamo un po' ragazzi chi la spunta tra questi due bestioni di potenza. Mamma mia. Dai ragazzi andiamo a dimostrare a Giren che siamo dei validi avversari. Iniziamo a tutta potenza. Mamma mia anche Giren si dà da fare. Facciamo la carica suprema ragazzi. Vediamo un po'. Ok parte lenta e poi va veloce. Proprio come quella di Vegeta. Super Saiyan Blue è voluto. Quindi vai. Vai Toppo. Vatti a ricaricare velocemente. Oddio. Ok ragazzi facciamo scisma distruttivo. Guardate farlo a Giren è grave raga eh. Ok non è come farlo a Freezer. Ok facciamo bagliore distruttivo. Carichiamo la mossa. Oddio. Fantastico ragazzi. Potentissima la mossa. Mi piace il colore arancione dei colpi dell'aura. E poi mi piace il fatto che si può caricare. E fare ancora più devasto. Vediamo un po'. Spezza abbraccio. Vai fantastico. Bravo Toppo. Vai. Spezza abbraccio. Dai forza Toppo. Vai. Fantastico ragazzi. Avete visto il danneggiamento che fa? I danni che fa insomma. Spingiamolo via. Carica suprema. Dai dobbiamo andare a fare la suprema ragazzi. Impeto potenziato ovviamente. Sto parlando di quella lì. Attenzione. Ci ricarichiamo. Ci vuole tutta l'aura per quella. Sicuro. Perché ho visto che non è ancora bloccata. Adesso siamo carichi al massimo ragazzi. Attenzione. Evitiamo il suo attacco. E facciamo appunto impeto potenziato. Ragazzi ci siamo. È uguale a quello di Jiren. Sì ragazzi. È uguale a quello di Jiren. Oh mio dio. Oh mio dio. È uguale raga. È uguale. Porca miseria. Scegliamo appunto Toppo Akaishin con la seconda skin. E ragazzi lo facciamo combattere contro Goku Ultra Istinto. Quindi abbiamo praticamente il potere della distruzione degli dei della distruzione contro l'Ultra Istinto degli Angeli. Mamma mia ragazzi. Una cosa davvero epica. Quindi selezioniamolo e ragazzi andiamo a combattere ancora una volta qui al Torneo del Potere. Quindi vai. Ed eccoci qua ragazzi. Toppo Akaishin direttamente dall'undicesimo universo contro Goku Ultra Istinto direttamente dal settimo universo. Mamma mia ragazzi. Sì scontro tra titani hanno due poteri completamente diversi ma ragazzi mamma mia quanta potenza emanano tutti e due. Però ce la dobbiamo fare assolutamente. Quindi andiamo a devastare con Toppo Goku Ultra Istinto che schiva tutto raga più o meno tutto diciamo. Attenzione vai Toppo non ti far trattare così. Dobbiamo distruggerlo con tutto il tuo potere. Vai. Forza. Perfetto raga ci ricarichiamo con la carica suprema. Così possiamo fare una bella mossa finale. Attenzione. Ok abbiamo l'impeto potenziato già pronto. Vai. Andiamo di impeto potenziato ragazzi. Lo facciamo. Guardate che roba. Oddio. Sì ragazzi. Lo distruggiamo. Fantastico. Era proprio questo che volevo vedere. Quindi la mossa è uguale a quella di Jiren. Diciamo che avevo pochi dubbi. Perché il nome della mossa è uguale. Quindi ce l'aveva Jiren. Guarda caso ce l'ha anche Toppo Akaishin. Akaishin. E quindi ragazzi questa è la mossa. Così si comporta. Quindi mi ricordo come funzionava quella di Jiren. Ed eccola qua. Adesso però ragazzi mi è venuto in mente un altro combattimento davvero epico. Che potremmo far fare a due personaggi davvero incredibili. Ovvero Toppo Akaishin. Prima skin. E ragazzi il caro Broly Super Saiyan massima potenza. Mamma mia ragazzi. Sono entrambi dei giganti. Sono altissimi. E vorrei fare questo scontro. Continuando a provare le mosse. Mamma mia ragazzi. Non so cosa ne verrà fuori. Ma mi immagino un combattimento davvero potentissimo. Guardate Broly che bestione anche. Toppo è gigantesco. Quindi immagino roba potentissima. Facciamo conferma. E ragazzi l'ultima battaglia la facciamo sempre qui al torneo del potere. Quindi vai. Ed eccoci qua ragazzi Toppo Akaishin direttamente dall'undicesimo universo contro Broly Super Saiyan massima potenza direttamente dal settimo universo. Vediamo un po' chi la spunta tra questi due titani. Mamma mia ragazzi. Andiamo subito a sfondarlo. Sono due giganti raga come potete ben vedere. Vai vai Toppo valla a sfondare. Vai a sfondare Broly. Mamma mia ragazzi. Anzi Broly mi sa che è anche più gigante di noi. Una roba inconcepibile. Vai. Vallo a sfondare. Vai Toppo. Sono completamente dalla tua parte visto che ti sto utilizzando come personaggio. Ragazzi facciamo appunto bagliore distruttivo. Attenzione non so se possa far qualcosa a Broly quell'attacco minimo. Attenzione raga lo spingiamo via. Ci ricarichiamo. Ok. Broly però fermo perché devo provare anche le mosse. Ecco ci prende e ci sbatte giù ragazzi. Oddio ragazzi sono due bestioni ve l'ho appena detto. Mamma mia. Ok. Attenzione. Attenzione Broly. Spingiamolo via appena possiamo. Oddio raga. No quell'attacco no. Quell'attacco è potentissimo. Oddio. Scappiamo via. Perfetto. Ci ricarichiamo. Ma già sta arrivando da noi ragazzi. Oddio. Vai. Spingilo via. Bagliore distruttivo. E non si scherza ragazzi con sta mossa. Mamma mia quanto abbiamo tolto. Ok. Vorrei provare raga un'altra mossa che abbiamo. Che però è molto brutta a mio parere. Quindi abbiamo onda energetica max potenza. Eh no. Ce la blocca ragazzi. Ce la blocca. Facciamo oltre il limite. Lo spaziamo via insomma. Ok. Perfetto. Ci ricarichiamo. Vai top. Forza. Non è facile da fare raga sta mossa perché te la levano sempre. Vai. Onda energetica max potenza. Mamma mia ragazzi. Distruggiamo Broly con questa mossa. Che è praticamente uguale a quella che hanno altri personaggi. Non è nulla di assurdo insomma. Però almeno lo abbiamo devastato così. Fantastico ragazzi. Questa è davvero adesso l'ultima battaglia. Mi sono divertito come non mai. Quindi facciamo avanti. E ragazzi torniamo a Conton City. Quindi ragazzi oggi siamo andati a provare assieme il mitico Toppo Akai Shin. Oddio della distruzione se vogliamo. A me ragazzi piace chiamarlo Akai Shin. Abbiamo provato appunto le combo. La presa. I vari attacchi speciali. I vari attacchi supremi. E ragazzi abbiamo fatto combattere Toppo contro vari personaggi davvero potentissimi. Davvero dei titani. Abbiamo messo a confronto raga dei titani. Porca miseria. E appunto raga. Diciamo che quasi tutti gli attacchi mi piacciono. A parte spezza abbraccio che mi sembra una mossa di nappa. E appunto anche l'onda energetica massima potenza. Che hanno un sacco un sacco di altri personaggi. Ed è una mossa copia e incolla. Quindi quella mossa secondo me su Toppo non ci sta. Perché tra l'altro non l'abbiamo mai vista utilizzare al torneo del potere. Quindi non ci sta. Mentre per quanto riguarda il resto delle mosse. Quelle là ragazzi mi piacciono tutte. Mi piacciono i due attacchi speciali. Non ho nulla da dire. Sono perfetti. Mi piace appunto l'impeto potenziato preso da Jiren. Copia e incolla. E anche ragazzi ovviamente la fissione distruttiva. Che è una mossa ovviamente di Toppo. E si vede. La utilizza contro la supernova di Freezer. E me lo ricordo bene. Insomma devo dire che il personaggio di Toppo Hakaishin mi piace tantissimo. Davvero un successo. A parte alcune mosse come vi ho detto. Esteticamente mi piace troppo. Davvero troppo raga perché incute paura nei nemici. Mamma mia un bestione davvero incazzatissimo. Con cattive intenzioni. E quindi ragazzi finalmente l'abbiamo provato. Mi raccomando fatemi sapere la vostra su tutto questo episodio. Fatemi sapere se vi piace Toppo Hakaishin. Se vi piacciono le sue mosse speciali. E anche appunto le mosse supreme. Fatemi sapere se c'è qualche aspetto di questo personaggio che non vi piace. E se ha soddisfatto le vostre aspettative. Quindi ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto. E che vi abbia anche un po' divertito. Se volete ragazzi lasciate un like. Condividete. Iscrivetevi se non siete iscritti. E ricordatevi sempre che io tornerò. Iscrivetevi se non siete iscritti.